Ciao ragazze, sono tornata! Nuovo video sempre sullo smalto semipermanente. Dopo il One Step di Laila e il One Face di Mesauda, oggi vi parlo di Gel Laze, lo smalto semipermanente di China Glaze. Quello di Gel Laze è un sistema bifasico che prevede l'utilizzo di un gel base e colorato, un unico prodotto, e di un gel top coat. Gel Laze polimerizza con tutte le lampade, 30 secondi con quella LED, 2 minuti con la lampada UV. Gel Laze è un semipermanente sock off, quindi si scioglie senza problemi in acetone. Ora che vi ho spiegato un po' come funziona il sistema di Gel Laze, passiamo al tutorial, che però questa volta è un po' diverso dal solito. Possiamo definirlo come una prova su strada, dato che era la prima volta che applicavo il prodotto e l'ho fatto grazie alla mia modella per un giorno, la mia cara amica Lulu, che mi ha aiutato in questa cosa. Diciamo che è una prova su strada, nella quale, mentre lo uso per la prima volta, mi accorgo magari di alcune cose di questo prodotto che potrebbero crearvi delle difficoltà. E quindi vi do qualche consiglio pratico per cavarvela in tutte le occasioni. Ecco il video! Partiamo come sempre dalla preparazione dell'unghia, che avviene tramite l'anematura, e l'opacizzazione di tutta la superficie ungueale con un buffer. Ricordatevi di pulire bene la polvere con una spazzolina. Procediamo poi spingendo indietro le cuticole. Mi raccomando, questo è un passaggio importante, perché così eviteremo che il gel tocchi in qualche modo la zona del giro cuticole, e che quindi possa sollevarsi. Per essere certa di aver eliminato tutta la polvere, pulisco le unghie con il cleaner o con un solvente senza acetone. Finalmente possiamo applicare il nostro gelade. Io ho scelto il colore 81816, che si chiama Rose Among Thorns, un bellissimo rosso fucsia. Dopo aver agitato con delicatezza la boccetta, inizio con la stesura del primo strato di smalto. Come vi dicevo, questo sistema non prevede base, quindi posso applicare direttamente il colore. E lo faccio con uno strato molto sottile. Ricordatevi che è sempre meglio fare uno strato in più, piuttosto che uno strato più alto, perché rischiamo che la polimerizzazione in lampada non proceda bene. Se l'ho chiamata prova su strada, un motivo c'è e ve lo mostro adesso. Mentre stavo per stendere lo smalto anche sull'unghia del dito medio, mi accorgo che sta accadendo qualcosa. Zan zan zan! Lo smalto semipermanente si sta ritirando verso il centro dell'unghia. Diciamo che non me lo aspettavo, però dalla consistenza piuttosto liquida di questo smalto semipermanente, il dubbio ce l'avevo. Come si rimedia? Si rimedia correndo ai ripari, quindi sistemando l'unghia come smalto che appunto si sta ritirando, e di solito si procede poi unghia per unghia, almeno per quella che è la prima fase, quindi il primo strato di smalto. Procediamo con la polimerizzazione in lampada. 30 secondi in lampada LED, 2 minuti in lampada UV. Questo è il risultato dopo solo una passata. Procedo ovviamente con una seconda perché voglio un colore più pieno. E se guardate, vi renderete conto che infatti questa seconda applicazione, quindi questo secondo strato, non tende a ritirarsi come aveva fatto il primo. Questo perché? Perché come vi dicevo, all'interno del prodotto colorato c'è anche la base. Quindi, una volta polimerizzato il primo strato, lo strato successivo ovviamente trova già maggiore aderenza. Senza questo problema di aderenza posso tranquillamente stendere lo smalto semipermanente su tutte le unghie e polimerizzarle tutte insieme. Non so se dal video si riesce a capire, ma questo colore è diciamo effetto vetro, quindi risulta molto luminoso ma anche molto trasparente. Quindi decido di stendere addirittura una terza passata, anche questo ovviamente sottilissimo. Una volta polimerizzato anche questo strato, passiamo all'applicazione del top coat. Stendo uno strato di top coat su tutte le unghie e polimerizzo in lampada. Anche in questo caso, 30 secondi in lampada LED, 2 minuti in lampada UV. Ai ai ai, il pennello del top coat si è sporcato. Questo avviene per due motivi. Da un lato, per via dello smalto che è molto pigmentato. Dall'altra, perché probabilmente il terzo strato di smalto semipermanente non si è rasciugato completamente. Può succedere e se vi succede vi consiglio di prolungare la polimerizzazione per qualche secondo in più. Mi raccomando di pulire sempre il pennello del top coat o di qualsiasi altro smalto prima di riporlo, altrimenti rischiate di sporcare tutto il prodotto. Quando anche il top coat si sarà polimerizzato non vi resta altro che sgrassare e voilà! La vostra manicure con gelaze è fatta! Io spero che il tutorial vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale per non perdervi gli altri e vi mando un bacio! Ciao!